Bentornati su MyFootballGersey. Rivediamo insieme la prima maglia dell'Inter Miami, questa volta in versione fan per la stagione nuova, la 2024. La versione player avevamo già vista e trovate qui in alto la recensione. Grazie per la visione! La maglia mi piace, tra l'altro la maglia di Messi è una maglia sicuramente che bisogna vedere. È veramente bello il tessuto, nella versione fan è un po' più largo, preferisco la versione player però sicuramente un'ottima scelta anche questa. Il costo lo vedete qui sopra vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Se volete maggiori dettagli trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Questo è un nuovo fornitore che sto provando, devo dire che il sito è fatto veramente molto bene e le maglie sono di un'ottima qualità. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Prima però iscrivetevi al canale, è un piccolo gesto che dovete fare ma ci aiuta a mostrarvi maglie belle come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!